Dopo la vittoria contro la Paganese, il Cosenza è già proiettato verso il prossimo avversario dei play-off, il Matera. Una squadra che durante questa stagione ha dato non poche preoccupazioni alle avversarie. Nel corso del campionato, contro il Cosenza, la squadra guidata da mister Auteri ha vinto sia all'andata che al ritorno, chiudendo il girone al terzo posto. Dunque Rosso-Blu si preparano al riscatto cercando di bissare il risultato contro la Paganese. Doppia chance per il Cosenza tra andata al Marulla e il ritorno nella città dei Sassi. Ecco cosa ne pensa Ettore Mendicino, attaccante del Cosenza. È stata una bella vittoria, era l'obiettivo che c'eravamo prefissati. Adesso arriva il Matera, una squadra sicuramente ostica, una squadra difficile, una squadra che ha giocatori importanti, giocatori di categoria, ha un allenatore importante che questo campionato lo conosce bene e ha saputo vincerlo più di una volta. Quindi ci dovremmo preparare al meglio, curare ogni dettaglio, cercare di migliorare quello che non è andato ieri. Però domenica saremo pronti e daremo sicuramente filo da torcere. Maria Chiara Sigillo per la CNews24